Il tanto atteso ponte sovumano a Castelnuovo rischia di restare un'incompiuta, questo a seguito dell'istanza di recesso presentata dall'ATI di Leuterio di Sabatino, a fronte di un ritardo nella consegna dei lavori che ha superato la metà del termine utile e contrattuale, situazione su cui la provincia enta appaltante non ha potuto far altro che prendere atto dell'impossibilità di opporsi alla decisione dell'ATI. Una situazione preoccupante visto che ora il rischio è quello di perdere i 3 milioni e 100 mila euro di fondi europei sul totale dei quasi 6 milioni stanziati per l'opera, che dovranno necessariamente essere spesi entro il 31 dicembre 2019. Si conclude un ITER di 4 anni perché si è partiti per realizzare quest'opera nel 2015 e si è terminati nel 2019 con la società che si è ritirata. Adesso i problemi sono gravi perché abbiamo una parte del finanziamento che scade al 31-12 e dobbiamo capire quali sono i percorsi nuovi da fare. Abbiamo sei mesi e adesso la domanda che faccio è se non si è fatto un ponte in 4 anni e riusciamo a farlo in sei mesi. Ogni tanto credo che sono più che un Presidente di provincia e un Commissario per l'emergenza. Adesso abbiamo un incontro domani per capire quali sono le vie da percorrere per fare un cronoprogramma e cercare alla Regione Abruzzo un'ennesima ed ultima proroga per il finanziamento. Se potessimo avere una proroga fino al semestre 2020 potremmo provare a realizzare l'impossibile, a fare un ponte in 7-8 mesi e stare nei tempi che la Regione ci potrà concedere. Io dico che bisogna avere le capacità e le competenze per fare quello che si può fare. Sul ponte credo che si doveva fare un percorso diverso. Adesso cerchiamo di farlo noi un percorso diverso ma quello che bisogna fare è riuscire a fare un'opera che è strategica per il territorio.